Durante le feste di Natale, un caso proprio la sera stessa di Natale, abbiamo notato io, anche personalmente, ma alcuni miei collaboratori, che su Facebook c'erano alcuni cittadini che denunciavano il fatto che Calcinelli, il semaforo centrale di Calcinelli, in quelle ore, pareva che avesse due verdi insieme, concomitanti, come dire, invece di essere in un lato rosso e in un lato verde, venivano i verdi entrambi e quindi denunciavano il rischio di alcuni incidenti. Ovviamente non abbiamo per nulla sottolotato questa situazione, perché sarebbe stato pericolosissimo quello che fosse stato riscontrato come realtà. I nostri vigili, la sera stessa di Natale, sono stati lì sul posto, hanno monitorato il semaforo per parecchio tempo, anche insieme a una patrulla dei carabinieri. Non è stato rilevato nulla di particolare quella sera, però i giorni successivi, è stato chiamato alla detta, al tecnico, abbiamo fatto tutte le simulazioni per capire se effettivamente potesse essere stato un problema di quel genere, anche perché poi nel frattempo, come spesso avviene sui social, era un po' montata questa cosa, sembrava che tutti in quelle ore dicessero che era vero, che c'era questo problema. Ripeto, non l'abbiamo sottovalutato, ho fatto tutte le simulazioni, ho fatto i controlli. Siccome su Facebook continuava a circolare il dubbio che potesse comunque esserci un problema di quel genere, anche se noi non lo riscontravamo, lì c'è stata per 15 giorni, quasi tutte le sere, una pattuglia dei nostri vigili in Borghese, per capire, con macchina privata, ferma all'incrocio, per capire se effettivamente c'erano problemi di quel genere. Bene, problemi di quel genere non sono stati mai riscontrati, però nel frattempo sono state prese 30 targhe di veicoli passati con rosso e a queste 30 persone gli arriverà il verbale a casa, forse gli è già arrivato. Quindi di conseguenza lì c'è un problema di questo genere, che molti con disattenzione o faciloneria passano o col giallo molto spinto o addirittura col rosso e quindi è un problema di altro tipo, non sono due verdi concomitanti, è la maleducazione e la disattenzione di alcuni automobilisti, che va fortemente censurata perché è un punto molto pericoloso e che prima o poi ci scappa l'incidente se si continua in questo modo. Per quel che riguarda il monitoraggio di questo semaforo sono state già installate, sono già funzionanti le telecamere che monitorano 24 ore su 24 l'andamento di passaggi in quella zona e conseguentemente anche un eventuale potenziale malfunzionamento del semaforo, ma non è stato mai rilevato un malfunzionamento del semaforo. Quindi attenzione perché uno prendete le multe, due c'è il rischio di incidenti.